Buongiorno, bella posa l'esercizio. Qui Lusuralla, Lusuralla potrebbe farci una canzone, anzi ce l'avrebbe fatta. 9 agosto nella capitale, secondo te sto male. Una coppia che va a cercare un po' di ombra a Villa Gloria, forse anche la Fontanella, e chissà che baciccio se la fa. Forse stavolta lei abbassa gli occhi e si è lasciato andare. E il Ponycrab che è chiuso perché fa caldo e i bambini stanno tutti al mare. Le cigale a scuattare. Lui col casco integrale che se fosse al meridione lo fermano subito perché sta a fare una rapa. E' il Pier 39 di San Francisco con il cappelletto. E' il filippino che fa la centissima telefonata. E' il ciclista delle ore 13. una signora che ha lavorato e che ha fatto la giornata ma che caldo. Qualche esistenza ancora va anche indietro ma stanno tutti in vacanza. Ma quanto sei bella Roma. è un gatto sul cornicione che scende sul citofono. Il suo dente che non si fa mai male. Una Peugeot Bidet che fa tanto cabrio ma l'apro alle sette per Galateo. E' lui col motorino che ha fatto la piega che si sentiva Valentino. e io qua sotto quando prendo il prodotto diutonico quando prendo i fia quando riesco a muovermi di più. Qui Lucio Dalla ci avrebbe fatto una canzone. Io ci faccio qualche pensiero. Un minuto e me ne torno a mare. Secondo te sto male? Ma viva la vita. Ma tutta la vita. Ma bella per te. Ognuno ha il proprio destino. ognuno artefice di quello che ha e di quello che sarà. Qualche buca. Qualche ostacolo. Ma senza questi pensieri e palle. Viva la vita. Bella per te. Per te. Per te. Per te. Grazie a tutti